passiamo però adesso al tema appunto della serata che sono appunto le elezioni amministrative i ballottaggi di domenica se andate su www.sondaggibidimedia.com trovate le nostre previsioni per tutte le città al ballottaggio stasera ne abbiamo scelte alcune che sono quelle più interessanti quindi Giulio iniziamo da Catanzaro Catanzaro il ballottaggio è un secondo turno tradizionale si confronta il candidato del centrodestra il professor Valerio Donato che guida un'ampia coalizione di cui fa parte anche Italia Viva e anche ex esponenti del PD lui stesso era un iscritto al PD e dall'altra parte il professor Nicola Fiorita che è sostenuto dal PD, dal Movimento 5 Stelle dalla sinistra radicale il primo turno ha visto il candidato del centrodestra superare il 40% staccando Fiorita di una decina di punti 10-11 punti percentuali il problema del ballottaggio è capire quanto i due candidati siano trainati dalle rispettive liste e viceversa quanto invece sia la loro forza personale in questo senso abbiamo potuto verificare quanto il professor Valerio Donato subisca un fortissimo disgiunto negativo attorno ai 4.000 voti rispetto alle liste della sua coalizione mentre dall'altra parte Nicola Fiorita goda invece di un voto diretto molto ampio, molto favorevole attorno ai 3.000 voti di conseguenza la nostra previsione è che Valerio Donato sia destinato a perdere consensi al secondo turno proprio in virtù del disgiunto negativo rispetto alle liste mentre Nicola Fiorita che tra l'altro ha ricevuto anche il sostegno di uno dei candidati esclusi Antonello Talerico un candidato centrista che aveva preso il 13% mentre Nicola Fiorita dicevo è destinato ad aumentare i propri voti proprio alla luce del consenso personale consenso diretto a lui che è ampiamente superiore rispetto ai partiti che lo sostengono e quindi la nostra previsione è quella di un ribaltamento al ballottaggio di una vittoria del centro-sinistra e di Nicola Fiorita grazie posso fare una domanda a Giulio in generale perché la questione per me è una specie di bibbia sulle lezioni amministrative c'è sempre questo dubbio Giulio ma l'affluenza per chi deve recuperare è preferibile un aumento un aumento dell'affluenza o un drastico crollo qual è la tua attività in generale perché la fluenza come incinerà allora cerco di spiegarlo anche se è complicato diciamo perché per chi non conosce tutti i tecnicismi allora è un po' la domanda un po' se è nato prima l'uovo o la gallina no? diciamo così in linea di massima chi deve inseguire bisogno di un'affluenza che quantomeno si mantenga stabile perché deve prendere i voti dei candidati esclusi altrimenti non c'è possibilità se tutti e due i candidati riportano al voto i propri elettori è evidente che chi insegue ha bisogno di attirare i consensi degli esclusi dei candidati esclusi dal ballottaggio ok? al sud la questione si complica perché? perché quando un candidato subisce un disgiunto molto negativo cosa succede? succede che viene tendenzialmente abbandonato dai suoi elettori del primo turno non da tutti ma almeno da una parte dei suoi elettori e quindi è difficile valutare se poi un calo dell'affluenza favorisce chi è in testa o chi insegue parlo sempre del mezzogiorno perché se un candidato ha un forte disgiunto negativo una parte dei suoi elettori lo abbandonano e vanno a casa restano a casa sostanzialmente non si recano alle urne e quindi in questo caso è facile ipotizzare che nel caso specifico Donato venga abbandonato da una parte nemmeno piccola dei suoi dei suoi elettori e il primo turno mentre Fiorita sia destinato a guadagnarne degli altri sempre nell'ambito di un'affluenza che comunque è destinata un po' a calare questo è inevitabile perché non si vota più non si vota per il Consiglio Comunale non ci sono le preferenze i consiglieri da eleggere quindi l'influenza è destinata a calare però al sud si crea un meccanismo di questo tipo nel caso appunto di un candidato che ha un disgiunto molto negativo rispetto alle viste lo dico così capisco che non è semplicissimo per chi non conosce tutti i tecnicismi del caso però funziona così al nord invece è vero quello che dicevo poc'anzi cioè chi deve inseguire tendenzialmente deve riportare al voto tutti quelli che hanno votato al primo turno perché se l'affluenza cala evidentemente non ha possibilità di recuperare sul suo avversario è un fatto matematico ecco abbiamo due commenti dei social da youtube appunto catanzaro in caso di vittoria di fiorita sarebbe un'altra zoppa le liste della collezione donato avrebbero la maggioranza assoluta quindi poi per governare ovviamente sarà sarebbe decisamente più difficile e poi invece nicola sempre da youtube il fatto di avere delle liste forti non dovrebbe favorire il candidato stesso che ha votato solo la lista non farebbe convergere il proprio voto al candidato di riferimento al sud non è non è così semplice perché mentre al nord il voto disgiunto non è granché praticato e per la verità anche poco conosciuto al sud invece è molto utilizzato perché si tende a votare il consigliere della lista x o y che spesso promette determinate cose mentre per il sindaco si tende a scegliere più liberamente mettiamola così è un meccanismo non voglio parlare di voto di scambio perché è un po' eccessivo però sappiamo quanto il clientelismo sia uno dei mali del del mezzogiorno e quindi spesso si vota il consigliere della lista mentre per il sindaco si vota un po' chi il candidato più simpatico più più attraente questo meccanismo si accentua ulteriormente al ballottaggio perché come detto poc'anzi non si deve più eleggere il consiglio comunale quindi non c'è più il traino delle liste per i due candidati e quindi il candidato che ha più forza personale il candidato che ha più carisma e più simpatico tende a ad aumentare notevolmente le proprie preferenze mentre il candidato che è più trainato dalle liste tende a perdere ancora più voti di quanti ne ha ceduti al primo turno attraverso il voto del giunto di quantità